Mentre intervenivo in aula ieri a fine seduta, in spregio al mio intervento, ha preso un finocchio, un ortaggio e l'ha messo sul banco. Un gesto eclatante contro Alessandro Zan, quello del deputato della Lega Nord, Buonanno. Non nuovo a provocazioni di questo genere a Montecitorio, attaccato così il collega di SEL, dichiaratamente omosessuale. Zan non se la prende più di tanto. Buonanno è un parlamentare che non ha idee e che utilizza questi strumenti da cabaret per attirare l'attenzione. Il deputato padovano, archiviando la provocazione di Buonanno, in giornata ha voluto sollevare il problema della sanità in Veneto. L'anno prossimo a Padova ci saranno 6.000 nuovi poveri che probabilmente non sapranno come curarsi. Le prestazioni sanitarie sono troppo costose. E anche chi ha i soldi nel 2012 ha deciso di curarsi di meno, hanno chiesto il 17% di prestazioni in meno. Per Zan è necessario evitare le spese inutili e quindi anche sul nuovo ospedale di Padova occorre fare un ragionamento serio. Io penso che prima di pensare a costruire un nuovo ospedale bisogna aiutare le persone che oggi non ce la fanno. C'è un sistema sanitario al collasso, anche la regione ha tagliato un sacco di posti letto, aveva promesso di aumentare i presidi locali e territoriali per dare una risposta ai bisogni dei cittadini. Questo non è stato fatto.